freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete. Ciao a tutti, io mi chiamo Francesca Marano, mi sono già presentata ieri ma mi ripresento oggi, sono la team lead del WordPress core team di Yoast, un gruppo di persone che lavorano su wordpress.org tutto il giorno quindi diteci grazie perché ci mettiamo del nostro scherzo, no no ci mettiamo del nostro davvero nel senso che uno dei miei report è uno che fa il 60% dei commit di WordPress quindi davvero ci mettiamo del nostro. Allora oggi sono qua per parlarvi di presto dobbiamo trovare una donna, un gay, un nero, un trans per il nostro evento, team, board, video aziendale, foto dell'azienda, qualsiasi cosa. Quindi come non aggiungere diversity dalle quote rosa in poi. Partiamo dai non ma poi vi do qualche consiglio per come farlo. Allora mi sono fatta le slide perché io non sono capace, cioè sono capace a parlare a braccio vuol dire che vado avanti tre ore quindi dovendo mantenere. Allora come non fare la diversity? Le quote rosa, le tanto vituperate quote rosa per un semplice motivo. Io sono sempre stata una grande sostenitrice delle quote rosa perché ho sempre pensato che fosse comunque un modo per mettere il piede in mezzo alla porta che si sta inesorabilmente chiudendo, per me donna quasi cinquantenne e e quindi ho sempre detto sì sì dai no le quote rosa comunque cioè almeno così uno sforzo per fare queste cose. Poi qualche anno fa sono stata ad un evento in cui avevano cercato di fare proprio tutto per avere il 50% di speaker donne, il 50% di speaker uomini come se la diversità fosse binaria ma va bene comunque un punto d'inizio e alcune speaker donne erano inascoltabili cioè erano state chiaramente scelte in quanto portatrici di vagina e non in quanto le migliori per parlare di quello se non le migliori accettabili per parlare di quell'argomento. Quindi le quote rosa sì ma come fa la qui presente Giulia Tosato a WorldCamp Verona che hanno sempre raggiunto la parità uomini donne facendo un percorso di mentoring per le relatrici che è molto molto impegnativo quindi insomma prima di mandarle sul palco solo perché appunto vagina munite vengono preparate e vengono incoraggiate a raccontare una cosa di cui loro siano effettivamente esperte. Quindi le quote rosa fatte così no. L'altra cosa è l'outing non condiviso ehi tu che sei gay vieni a parlare al nostro con... io? Io gay? No? Io no? Che ecco quello anche non fatelo se sospettate che una persona intorno a voi faccia parte di un gruppo sottorappresentato fa anche sempre molto ridere dire che le donne sono una minority perché invece siamo più del 50% della popolazione mondiale ma questo magari ne parliamo un'altra volta. Quindi insomma non pensiamo che solo perché una persona si veste in un certo modo, parla in un certo modo a un determinato aspetto possa essere la nostra quota diversity per l'evento perché invece magari questa persona non ha assolutamente nessuna diversità ma gli piace vestirsi in un certo modo. Quindi evitate di fare queste robe. Evitate anche di chiedere sempre alle stesse persone. Io e Alessandra Farabegoli abbiamo riso per tanti anni su questa cosa che noi eravamo la quota rosa delle conferenze tech italiane perché non riusciva... adesso per fortuna... sì per fortuna devo dire che c'è una nuova generazione si sono un po' hanno smesso un po' di... però io continuo nonostante tutto ad essere chiamata per fare la quota rosa ai panel tech per non fare il panel solo di maschi. E va bene quindi queste robe qua direi che a questo punto potremmo anche smettere di farle. Anche perché non è detto che tutte le donne vagina munite vogliano rappresentare tutte le donne. Cioè non vuol dire che il mio essere donna che io automaticamente voglia rappresentare tutta la categoria come non è detto che una donna trans o un uomo trans vogliano rappresentare la categoria. Quindi evitate appunto di fare outing non non richiesto ed evitate anche un po' di chiedere sempre alle stesse persone. Quindi non è che ci sono solo io che lavoro su WordPress in Italia ci sono tante donne quindi bisogna andarle a trovare. Non fate quello che gli inglesi chiamano virtue signaling che non so come come si traduca davvero in italiano ovvero cioè Wikipedia mi diceva una roba tipo fariseismo una roba che io non avevo mai sentito in vita mia ma fondamentalmente l'ostentazione di adesioni a valori morali per ottenere consensi. Cosa vuol dire il logo con i colori del Pride a giugno? Perché se poi io vado sulla pagina della vostra azienda non vedo una donna o una persona di colore nel board ho capito che avete fatto quella roba lì solo sperando di far comprare i gay in quel mese lì ok? Quindi virtue signaling e questa roba qua che insomma c'è il mese, black history month, black lives matter e poi scopri che quell'azienda lì ha donato 100 milioni di dollari alla campagna di Trump. Quindi questo è il virtue signaling di dire noi aderiamo a questi valori però è tutto sulla carta così come i valori aziendali lasciati sulla carta. Quindi non scrivete quelle robe quando cercate personale. Quest'opportunità è aperta a tutti, la discriminazione sul posto di lavoro e di nuovo io vado sulla pagina about e vedo solo maschi bianchi tra i 20 e i 30 anni perché di nuovo state dicendo una roba solo per farmela credere. E soprattutto se io anche avessi tutte le caratteristiche per venire a fare quel lavoro lì difficilmente in quanto unica donna appunto quasi 50enne avrei voglia di venire a lavorare in un posto in cui tra i perk c'è il tavolo da ping pong perché a me mi si stira subito il gluteo vista l'età e quindi figurati se per me quello è un perk invece se mi dai la stanza in cui fare il pisolino dopo pranzo oppure non lo so fossi ancora in età di figli avere la stanza per l'allattamento sicuramente è una roba più importante che non avere il ping pong ok quindi mi raccomando i valori aziendali ma anche di voi come freelance cioè poi scrivete solo robe nelle quale credete davvero perché adesso devo dire che tutto il movimento soprattutto del femminismo intersezionale è abbastanza interessato su queste robe quindi tutte le volte che vengono beccate le aziende o i freelance o chiunque altro a fare queste robe si scatena il putiferio e quindi non fatelo per gli eventi in particolare se c'è un codice di condotta e poi sono tutti ubriachi sversi sotto il palco insomma quel codice condotta lì non è che avesse un grande valore ed infine appunto non chiamare sempre le stesse persone quindi ripeto oltre a me Alessandra e Miriam che adesso siamo anche un po' stanche diciamo la verità e poi siamo molto care quindi ci sono anche altre donne da chiamare siete tutti d'accordo con questi no? ne volete aggiungere altri su come non inserire diversity nei panel, nelle aziende, nei board? dove ne vengono in mente altri fare offerte di lavoro in cui dice ah siamo inclusivi questa offerta di lavoro è aperta a tutti per te e poi è tutta scritta al maschile o con termini e aggettivi vieni a vincere cioè tutto questo questa è un'altra cosa classica del mondo tech soprattutto i tech bros alla Elon Musk che sono sempre lì a misurarsi il pisello sempre, sempre, io vado su Marte ravvedimento peroso vado su Venere che non ci siamo ancora arrivati però sai che c'è? io sono Bezos, tu vai su Marte, adesso ti faccio vedere io io vado su Saturno ravvedimento peroso ecco e gli annunci di lavoro per fortuna in inglese io lavoro solo col ma anche quando facevo la freelance non è che lavorassi tantissimo in Italia quindi questa roba in inglese è un po' meno evidente ma effettivamente in Italia che è una lingua non neutra è molto evidente quindi sì ecco mi raccomando insomma adesso su questo tema qua anche c'è tanta con se poverezza quindi e poi come sempre se non siamo capaci facciamoci aiutare ci sono oramai in Italia diverse figure di copywriter che si occupano soprattutto di linguaggio inclusivo quindi soprattutto faccio una marchetta all'Alice Orru che non c'è ma va sempre raccomandata quindi se avete bisogno di qualcuno che vi riguardi i testi ecco Flavia Brevi che però non so se fa la copy lei lavora in azienda Vera Gheno che però si occupa più di progetti editoriali grossi insomma adesso ce ne sono già un po' di persone in grado di aiutarvi anche all'interno degli eventi poi ci sono delle cose proprio molto tipiche degli eventi qualcuna l'ho segnata qualcuna poi la segnavo magari insieme sul gruppo adesso prendiamo le donne per il nostro evento e poi però alle donne gli diamo lo slot o l'ultimo così tutti sono sfranti non ci hanno più voglia o la mattina così ce la togliamo e poi tanto saranno ancora tutti sversi dalla festa, dalla sera prima che nonostante il codice di condotta dica di non ubriacarsi in modo selvaggio tutti si ubriacano quindi la mattina non c'è nessuno e infatti a me mi danno sempre il primo slot è un classico ormai sono abituata e vabbè allora cosa fare? prima di tutto una roba che in inglese si chiama show don't tell che non saprei tanto anche questo tradurre cioè lead by example fatti e non parole fatti e non pugnette fatti e non pugnette ecco ecco quindi invece di fare il pippone con la pagina sulla diversity il codice di condotta che comunque vanno fatti la diversity a sé tutte queste robe qua vanno comunque fatte però poi farle davvero prima di tutto e poi fare dei piccoli gesti questo soprattutto agli eventi che raccontano l'evento molto più della pagina in cui c'è la dichiarazione di intenti e mi viene sempre in mente qualche anno fa c'è stato questo WordCamp Europe i WordCamp sono gli eventi ufficiali della community Wordpress e fino a quando ci si poteva incontrare di persona se ne faceva uno molto grande che riuniva tutte le community europee e qualche anno fa io ho fatto parte dell'organizzazione di questo evento a Parigi e i palcoscenici non avevano la rampa per la sedia a rotelle e nonostante noi non avessimo nessuno che aveva dichiarato di aver bisogno di una rampa d'accesso abbiamo scelto di spendere 2000 euro del budget per fare la rampa d'accesso che nessuno ha usato ma non importa perché chiunque sia venuto a quell'evento ha visto la rampa d'accesso e ha detto ma guarda un po' se nel caso fosse la persona stessa sulla sedia a rotelle probabilmente ha pensato vabbè allora il prossimo anno magari mi propongo per questo evento perché si prenderanno cura della mia disabilità oppure gli è venuto in mente un amico o un'amica su una sedia a rotelle o con dei problemi di mobilità ha detto guarda sai quell'evento ecco lì vai perché è un evento che anche senza che tu dica perché non date per scontato che le persone abbiano una disabilità visibile o che la vogliano dichiarare cioè uno può anche dire tenersele per sé no? le proprie cose è evidente che se sei su una sedia a rotelle è molto evidente ma ci sono un sacco di disabilità non evidenti e non è detto che la gente abbia voglia di raccontarvi i casi propri ok quindi queste robe qua sono importanti agli eventi altre cose e vi confesso che da italiana cresciuta in una società patriarcale in cui certe cose non si dicono le prime volte a me queste robe mi facevano molto effetto i bagni genderless così le persone trans non devono imbarazzarsi a dire vado nel bagno dei miei organi genitali o vado nel bagno dove mi sento a mio agio gli assorbenti nei bagni io la prima volta che l'ho visto volevo morire perché per me non c'è nulla di più imbarazzante che parla di amministrazione c'è una roba che adesso che fanno le pubblicità col sangue rosso io proprio sto male lo dico per me poteva continuare ad essere blu per il resto della vita ma invece lì ho capito il mio essere manchevole su questo argomento quindi ho detto ah guarda però ci sono gli assorbenti in bagno se a qualcuno gli vengono le mestruzioni mentre lì può andare in bagno e usare gli assorbenti i menù cioè teniamo presente che c'è della gente che non mangia la carne ci sono i vegetariani ci sono i vegani ci sono i pescetariani ci sono le richieste di menù speciali in base alle religioni ci sarà qualcuno che vuole il pasto cashier non lo so però io lo metto nel form di iscrizione così se qualcuno vuole il pasto cashier non deve andare e non deve solo poter mangiare l'insalata scondita insomma che è il classico quando non ci sono alternative l'interprete di linguaggio dei segni anche lì in tantissimi tantissimi eventi oramai è una cosa che viene dichiarata fin dall'inizio perché comunque di nuovo potrebbe essere anzi una mia amica mi ha fatto notare poi vi metto un sacco di link sul gruppo facebook di una call for papers in cui c'era proprio scritto va bene anche se voi parlate con il linguaggio dei segni perché noi avremo poi un interprete quindi anche lo speaker stesso può fare il proprio talk nel linguaggio dei segni e ci sarà poi invece una persona che darà voce quindi i due spettri trascrizione dei talk quella è una cosa fondamentale per garantire una diversità nel pubblico non tutti parliamo bene inglese non tutti lo capiamo parlato anche perché ci sono un sacco di accenti ma se lo vediamo scritto di solito qualcosa in più lo capiamo quindi questa è una cosa sicuramente utile quindi appunto fare e non solo parlare e possibilmente anticipare i bisogni nelle aziende questo si traduce appunto di nuovo negli assorbenti nei bagni la stanza per l'allattamento i parcheggi illuminati così se sto fino alle 10 in ufficio non devo avere paura tutte le volte di essere violentata tra l'ufficio e il parcheggio i congedi parentali non solo non solo alle mamme e queste sono tutte cose molto pratiche per aumentare la diversità e l'inclusione in aziende molto grandi si possono anche creare delle guild quindi dei come si chiamano le guild in italiano le gilde grazie per cui gruppi che si riconoscono in una diversità di un certo tipo possono far parte di un gruppo appunto omogeneo di persone che si riconoscono in quella diversità e si aiutano a vicenda quindi in aziende molto grandi c'è la gilda lgbtqia plus la gilda bipoc quindi black indigenous people of color single mothers asian descent non lo so tutto quello che vi può venire in mente e smetterla di pensare che qua in Italia siamo tutti italiani bianchi e bruni perché è vero che i nostri governi negli ultimi trent'anni ci stanno provando tantissimo a fare in modo che gli italiani abbiano solo il mio aspetto però anche in Italia dobbiamo smetterla di pensare che la questione di discriminazione di genere razza colore religione no ma figurati noi no ma noi ma no ma noi mica siamo i belgi che sono andati a fare lo sterminio in Africa no perché siamo delle pippe quindi non ci siamo riusciti a farlo però ci abbiamo provato cioè non è che noi in Etiopia e in Eritrea siamo andati a fare del bene solo che siamo un po' pippe quindi non siamo riusciti a fare i colonialisti veri però ce la portiamo un po' dietro questa cosa e immagino che insomma i fatti di cronaca dell'ultimo mese parlano dell'ultimo mese ma in realtà degli ultimi anni è solo che ci dimentichiamo presto noi di queste cose parlano abbastanza chiaro sulla discriminazione di genere colore razza religione non parliamo poi delle religioni tutte le volte che uno dice apriamo una moschea nel quartiere no come se no e vabbè quindi ma la verità è che tutti questi sono tutti ottimi consigli perché li ho dati ovviamente ma la verità è che bisogna farsi un gran mazzo cioè che tutta questa roba che anche una volta che avrete il parcheggio illuminato la stanza per l'allattamento il codice di condotta la non lo so la rampa i bagni genderless queste robe qua poi bisogna iniziare cioè questo è il prelavoro il lavoro vero è andare a parlare alle persone sedendosi di fianco a loro e non di fronte a loro quindi in una relazione tra pari e non in una relazione di te donna con i capelli rosa vuoi venire a fare la quota capelli rosa al mio evento no io mi siederò vicino a Giulia e dirò inizierò un dialogo in cui cercherò di capire intanto se a lei interessa fare la public speaker perché anche questa roba qua io continuo a farlo perché sono proprio F24 su questa cosa quindi continuo ad andare a parlare a tutti gli eventi in cui mi dicono vieni a parlare di doversi di crucio sì va bene poi però vado perché lo sento proprio come una missione importante che io sto portando avanti nella vita ma non è che tutti vogliano farla questa roba quindi no mi siedo vicino a Giulia e dico te inizio a parlarla inizio a conoscerla mai mai pensato di parlare ad un evento cioè praticamente tre quarti delle donne speaker italiane le ho cuccate così agli eventi perché io lo dico sempre gli eventi sono uno schema ponzi quindi tu entri tipo multilevel marketing tu entri capisci di essere l'unica vagina munita e quindi ciao ma tu hai mai pensato di parlare ma tu cosa fai ma hai mai pensato di parlare ad un evento no perché no ah no guarda a questo ci sarebbe questa soluzione comunque se vuoi chiamami quando vuoi io sono sempre disponibile e quindi bisogna fare quella roba lì che è molto faticosa è molto faticosa e prende un sacco di tempo però bisogna farla perché è l'unica cosa che davvero funziona perché continuiamo a chiamare noi tre adesso anche basta insomma quindi bisogna fare come sempre dicono gli americani do the work quindi poi applicarsi su quello che si è imparato all'ennesima talk all'ennesima seminario che l'azienda ha organizzato su diversity inclusion equity perché non dimentichiamoci la equity poi bisogna fare il lavoro perché sennò resta proprio tutto sulla sulla carta e concludo raccontando un episodio molto cringe perché purtroppo è lì che che spero di così coinvolgervi attivamente io ho una cara amica americana che negli ultimi tre anni ha cambiato tre aziende tech tutte aziende che durante il black history month tutto black tutto empower small business owner black durante il pride siamo qua per i nostri fratelli le nostre sorelle il gender fluid cioè questa qua aziende grosse non il salumaio di pavia che magari fattura milioni ma sono cinque fratelli a scuoiare i maiali tutti i giorni quindi aziende proprio grosse che fanno che spendono milioni in seminari di diversity inclusion nelle loro aziende questa qua tre volte una programmatrice bravissima ha dovuto mollare questi posti perché i suoi capi maschi le facevano ghosting le facevano gaslighting le facevano non la invitavano insomma alle riunioni era sempre quando si facevano le performance review era sempre non si sa come quella che performava peggio di tutti quindi attenzione che sono tra noi e in realtà anche se potete impegnarvi in prima persona con degli atti piccoli ma pratici fatelo ghost che io oggi sono non sono venuta a vendervi ghost però sono venuta a raccontarvi anche un po' di cose che stanno facendo le aziende all'estero perché secondo me c'è da ispirarsi quando sono finiti gli eventi di persona e quindi come diceva Fabrizio c'è il budget da ridistribuire un po' è stato ridistribuito in eventi online e un po' è stato ridistribuito in fondi per la diversity in cui tu ci scrivi e dici io voglio contribuire a MongoDB e sono un uomo nero di 47 anni del Mississippi mi dai un mese di stipendio così io invece di dovermi cercare dei clienti posso dedicarmi un mese a MongoDB o ad un altro progetto open source e mi dice sì tieni cioè quella è una roba da fare se l'azienda per la quale lavorate ha l'opportunità di farlo quello è il solito show don't tell io nel mio piccolo tutti i mesi dono 150 dollari a maintainers di progetti open source donne o non binary e dono a girls black girls code cioè queste sono anche robe molto molto pratiche molto piccole ma che ma che aiutano e che anche noi come freelance possiamo fare per fare non solo parlare e farci il bollino bollino pride a giugno ciao grazie per saperne di più visita il sito www.freelancecamp.net e iscriviti alla newsletter riceverai subito 6 lezioni per diventare freelance migliori una raccolta di alcuni fra i talk più interessanti e utili del freelance camp e iscriviti al nostro canale e iscriviti al nostro canale e iscriviti al nostro canale